La proposta del nuovo ospedale da costruire accanto al Maggiore è già sparita dall'orizzonte del sindaco Gianluca Galimberti che l'aveva sinora presa in seria considerazione pur ridimensionando l'originaria proposta di Forza Italia per una struttura di 700 posti letto per un costo di 450 milioni di euro. L'argomento non compare nella lettera che il primo cittadino ha reso nota in vista della riunione dei rappresentanti dei comuni e dell'ambito cremonese prevista per venerdì in San Vitale alle 17.30. In quell'occasione, da quanto trapela, della nuova struttura si parlerà anche nella lettera comune destinata alla regione, all'ATS e al direttore del nosocomio Giuseppe Rossi. Le voci contrarie nel frattempo si sono rafforzate indebolendo ulteriormente la posizione di Galimberti rispetto al PD. Intanto il sindaco di Cremona rilancia il grido d'allarme condiviso da più parti sulla crisi economica delle case di riposo che da dieci anni vedono crescere i costi ma non i contributi regionali, dunque ancora più fragili in caso di seconda grave ondata di Covid. Molte le proteste dei cittadini, poi per i tempi d'attesa esageratamente lunghi per visite, esami e ricoveri al Maggiore dedicato dalla regione alla cura dei malati gravi di Covid, con il rischio che, se il coronavirus colpirà di nuovo duramente, chi ha l'infarto o l'ictus non trovi ricovero a Cremona. Oltretutto mancano radiologi, anestetisti e medici di pronto soccorso, sia a Cremona che all'olio po' di Casal Maggiore. La medicina territoriale inoltre rimane assai debole. Infine, le istituzioni cremonesi non sono rappresentate nella Commissione regionale d'Inghessa sui problemi emersi nei mesi più duri della pandemia.